Gli eritrociti appaiono impilati, come potete vedere, si formano delle cariche ioniche che fanno sì che ogni eritrocita va ad ammassarsi all'altro. 30 secondi dopo aver applicato una goccia di balance sotto la pianta dei piedi, nello stesso individuo, così è come risultano eritrociti. Quindi completamente fluidi, in grado di poter apportare un miglior scambio di ossigeno anche verso i distretti periferici e trasportando in maniera ottimale i nutrienti all'interno del nostro corpo.